Sono Michelangelo Di Toma, vi introduco nel mondo Wilson & Morgan. I whisky di Wilson & Morgan sono delle selezioni curate apposta dal 1992 con cura da Fabio Rossi e dal suo team che lo affianca nella scelta. Si va in distilleria in Scozia, si scelgono le botti e una volta selezionate rimangono di proprietà di Wilson & Morgan ad invecchiare nelle varie proprie distillerie. Il più delle volte, sulle bottiglie, troviamo il nome della distilleria selezionata, con le botti selezionate. In alcuni casi, invece, la bravura evidentemente di Wilson & Morgan è quello di acquistare delle botti in delle distillerie che sono sotto copertura, diciamo così, usando dei termini spionistici. Vengono acquistate delle botti e una volta che vengono acquistate queste botti da queste distillerie si sceglie di battezzare una particolare edizione di quella distilleria con un nome particolare, Speybridge. Il whisky che voglio presentarvi in questo momento è Speybridge. È un nome di fantasia e in realtà è il nome di una località che è nello Speyside. Ci sono cinque distretti in Scozia, uno dei distretti più interessanti, i cui whisky sono particolarmente corposi, diciamo strutturati, per dirla meglio, e derivano proprio dal fatto che le elaborazioni, le distillerie, sono in un ambiente, prendono delle materie prime, vengono lavorati i whisky in un mondo che offre e favorisce lo sviluppo di whisky particolarmente interessanti e strutturati, diciamo così. Bene, Speybridge è un punto di incontro di strade che si trovano all'interno dello Speyside, esattamente nella parte a occidente dello Speyside. È un nome di fantasia, ma in realtà è l'incontro tra due o tre strade che portano a tante altre distillerie. Una di queste strade, passando per Speybridge, ci porta ad una distilleria segreta, che non posso rivelarvi anche in questo caso neanche sotto tortura, e questa distilleria ci offre questo distillato, questo single malt, fatto in un'unica distilleria utilizzando orzo maltato. È un distillato del 2012, imbottigliato nel 2022, è facile contare per dire che ha dieci anni di invecchiamento, gradi alcolici sono 46. Mediamente, un whisky, quando invecchia, messo in botte a 63 gradi, il whisky evapora insieme all'acqua, la gradazione alcolica scende. Poi si decide di aggiungere dell'acqua pura di sorgente per portarla alla gradazione alcolica per presentare questo whisky. Bene, questo whisky è stato portato a 46 gradi perché anche il dettaglio della gradazione alcolica è importante. Quale vestito vogliamo indossare oggi? Qual è la speciale occasione in cui vogliamo bere Speybridge e perché? Allora, leggiamo l'etichetta. Sherry Finish, PX è una sigla che vuol dire Pedro Imenez. È un tipo di Sherry particolarmente dolce. È uno Sherry che ha 28 grammi di zucchero per litro e quindi è uno Sherry che quando lo assaggiamo, lo Sherry, lo sentiamo particolarmente morbido. Questo whisky invecchia in barili ex bourbon e poi finisce per 20 mesi circa una rifinitura in botti ex Sherry Pedro Imenez. Immaginate che se è uno Sherry piuttosto morbido, rotondo, conferirà a questo whisky degli aromi e dei profumi particolari. Andiamo a conoscere, indossiamo questo whisky, andiamo a degustarlo. Per la nostra occasione speciale, questo whisky sarà ideale per un momento particolare della nostra vita quotidiana. Quale? Ma il colore è un giallo-oro un po' più intenso rispetto a prima, direi quasi brillante. E all'olfatto immediata la sensazione di Sherry viene al mio naso. L'uva passa, la botte che è stata utilizzata per una lunga finitura. Ma si sente anche, comunque, il profumo dei cereali. Non tutti i whisky conferiscono subito questi aromi all'olfatto. Speybridge lo fa. Speybridge parla con noi, dialoga in questo momento. È un rapporto di amicizia che si crea tra noi e il whisky. Andiamo ad assaggiarlo. Quando assaggiate un whisky, il primo sorso, masticate il whisky, in maniera tale che la saliva possa amalgamarsi con il whisky. In questo modo noi abbiamo la possibilità di sentire maggiormente tutti gli eroimi profumi che rimangono nascosti dall'alco. Lo facciamo insieme. Chiara subito una noda morbida, rotonda, di Sherry immediatamente e di cereali e di farina, fragrante. È un whisky che però ha una sua morbidezza. Ecco, è un momento in cui questo whisky mi fa sentire a mio agio con questo vestito forse è un primavera estate nella mia collezione. Perché? Perché questa sua gentilezza, questa sua morbidezza è proprio quello che ci vuole. In questa mia occasione speciale voglio degustare un whisky che mi metta a mio agio, magari abbinato, affiancato con un pezzo di cioccolata fondente o anche una cioccolata che ha un aroma di fragola oppure una cioccolata che ha dei sentori, per esempio, di pera. Ecco, questi aromi, questi profumi, queste sensazioni derivano dagli alcoli. Non ci sono messi dentro questi aromi. È vietato mettere gli aromi nel whisky. Tutti questi aromi vengono fuori dai processi di distillazione. Sono i nomi di particolari molecole chimiche che quando entrano nella nostra bocca frizzano come le pasticche, le caramelle di una volta si aprono in bocca e ci riempiono di profumi e di sapori. Così fa il whisky con noi. Sentiamone di nuovo il profumo. Ed ecco questa bella sensazione di sherry. È molto coinvolgente. Evidentemente in questo momento io voglio vestire, indossare questo whisky, voglio degustare questo whisky. È il mio momento particolare della giornata. E allora lo assaggerò. Mi metterà a mio agio. Un corpo giusto. Un'intensità in bocca. Tutte quelle sensazioni che io cerco in questo momento le ritrovo. Quella parte di vinoso, quella parte per esempio di fragole e di ciliegia, quella parte di frutti rossi, ma anche una parte di mandorla e di nocciole. Una serie di sensazioni che si aprono nella mia bocca perché è la saliva che le fa aprire. Ormai il mio palato è abituato al whisky. Gli ho già stretto la mano. L'ho già fatto diventare mio amico e io sono diventato amico di questo whisky. Bene, per un vostro momento particolare della giornata, abbinato per esempio anche ad un plum cake per esempio, o anche a un muffin per esempio, con i frutti rossi. Bene, provate questi accostamenti, questi abbinamenti. Renderà più simpatico e piacevole il dialogo tra noi e il whisky. Grazie a tutti. Grazie a tutti.